C'è sto maestro. Maestro? E che fate? Venite solo sul letto per stare a quest'ora. Io abito là. Se permettete vi scorto a casa. Una furtiva lacrima, negli occhi suoi spuntò. Mi piacerebbe proprio di prendere qualche lezione di mio apporto. Vi ho detto l'altra volta. Questa è tardi. Ne parliamo domani. Vieni domani, pomeriggio alle 18. Ne parliamo dai. State nervoso maestro? Qualcosa non va? Ieri sera un mio collega, visto che aveva della busta della spazzatura a Giosamata, e sul bordo spuntava una carta di formaggini. Si è meravigliata. Ma com'è? Maestro si mangia i formaggini. E come, ma che male già? Se non mi s'asveggio ne va a mattina. Tu mi s'asveggio ne va a mattina? 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 Scusate maestro Santoro. Non vi volevo offendere. Veramente. Posso andare così? No, no, no. No, no, no. No, no.